E' terminata la prima fase di svezzamento e accrescimento per sei piccoli caprioli che nei mesi scorsi erano stati portati da alcuni cittadini al Centro Animali Non Convenzionali della Facoltà di Veterinaria di Torino, convenzionato con il Servizio Tutela Fauna e Flora della città metropolitana. In alcuni casi i caprioli erano stati sottratti inconsapevolmente alle cure della madre, mentre in altri erano stati raccolti in evidente difficoltà. I piccoli erano giunti al centro, che ha sede a Grugliasco, a fine maggio. Grazie alle cure dei veterinari sono cresciuti sani in una piccola area circoscritta. Superati i cinque mesi di età sono stati trasferiti in un centro di riambientamento a Capri, anch'esso convenzionato con la città metropolitana. Quest'oggi abbiamo catturato e liberato sette giovani caprioli che erano stati portati presso il centro animali non convenzionali della Facoltà di Medicina Veterinaria da dei cittadini, animali che sono stati svezzati, curati e stabulati fino a questo momento presso la facoltà. I sette caprioli sono una femmina adulta e sei piccoli, due dei quali figli di questa femmina che è arrivata fratturata, era gravida e quando era pronta per essere riemessa era un periodo non consono per portare avanti la gravidanza per cui l'abbiamo trattenuta e ha partorito da noi. Gli altri sono piccoli trovati in giro, uno di questi effettivamente aveva necessità delle nostre cure perché aveva una ferita con delle larve e gli altri invece sono stati prelevati probabilmente impropriamente dal territorio. Grazie a questa femmina che allattava abbiamo avuto più facilità nel portarli a questo stadio di età e quindi a gestire la situazione. Adesso gli abbiamo dato un recinto più ampio di quello della Facoltà affinché possano rinselvatichirsi e affinché si possa in primavera liberarli con tutte le caratteristiche dell'animale selvatico, cioè la tavica paura dell'uomo che un selvatico deve avere.